Davide ci siamo domani si gioca Finalmente torniamo a giocare abbiamo fatto una lunga sosta partita un po' che ci aspettavamo da tanto tempo importante bello giocare queste partite con una squadra di tradizione come la Tiber nei stori giovanili con cui battaglieremo per un posto al nostro sogno che sono le finali nazionali cosa dirai ai tuoi ragazzi prima della partita domani? Di giocare a palacanestro, di divertirsi, star sereni sicuramente non dovrò motivarli i ragazzi sanno che per loro stessi, per il club, per l'olandina è una partita importante per il nostro progetto nel settore giovanile per l'idea che abbiamo dei giovani nella palacanestra siciliana gli spiegherò alcune cose secondo me che li potranno aiutare non tante e cercherò soprattutto di farli capire che giocando a palacanestro assieme potranno giocare bene questa partita e possibilmente vincerla Pensi che possa fare tanta differenza l'emozione domani? Beh è una parte emotiva, lo sport c'è sempre nel basket quando le partite sono un po' più importanti, i ragazzi giovani ognuno reagisce in maniera diversa quindi qualcuno sarà più emozionato, qualcuno meno qualcuno ha giocato anche partite più importanti, quelle nazionali intorno ai importanti altri magari non sono mai giocati oltre alle fasi provinciali di qualche campionato giovanile sicuramente giocherà dei brutti scatti qualcuno e qualcun altro sarà più pronto anche per i nostri avversari, è normale in queste partite sono sereno che poi insomma tra quello che sommi e quello che togli saremo a posto grazie grazie grazie